La raccolta differenziata In che modo la classe prima B fa la raccolta differenziata? Abbiamo delle borse, una per la carta, una per la plastica e una per il vetro. Inoltre abbiamo un cestino per la raccolta indifferenziata. E come scuola che cosa fate? Abbiamo degli ecobox, uno per le cartucce e i tonne per gli stampanti, uno per i tappini di plastica e uno per i cellulari. Inoltre abbiamo uno per gli scontrini dell'era con cui ci siamo aggiudicati delle risme di carta riciclata. La classe prima B che cosa deve dire al mondo per stimolare la raccolta differenziata? Ha scritto una filastrocca che ora vi leggerò. La raccolta differenziata è un poco fatata e il mondo com'è non è un grand che. Sarebbe tanto se lo aiutassi anche te, quell'amore ti darà una vita di felicità. Grazie e arrivederci al prossimo Tg.